Continuiamo la nostra trasmissione dal Parco degli Olivo di Mirabella in Baccari, stasera due gradissimi amici abbiamo trovato casualmente, non erano programmati, però siamo contenti e felici. Benvenuto all'onorevole Concetta Raia e a Angelo Villari, un carissimo amico, già assessore al Comune di Catania da circa un mese di missionario, ma perché credo che nel suo intimo c'è la consapevolezza di essere candidato alle prossime regionali, è possibile, e già segretario generale della CGL catanese. Allora cominciamo con l'onorevole Raia, così ci dice le ultime news della regione siciliana. L'apri di cielo. L'apri di cielo, ma diciamo la verità, la regione siciliana ha chiuso il suo percorso, mettiamola in questo modo, con la finanziaria ultima, la legislatura volge al termine, la finanziaria è stata un'occasione mancata. Perché si poteva fare molto di più, si poteva fare tanto per dare quello slancio che in questi anni, tra debiti fuori bilancio, tra bilancio non positivo, tra maggioranza che non esisteva, oggi c'erano le condizioni per poter dare un messaggio un po' più importante alla regione, ai cittadini siciliani. Purtroppo anche qui ci sono stati degli stop derivati anche dall'opposizione che secondo noi non ha svolto quel ruolo che invece doveva svolgere un'opposizione, che è stata solo un'opposizione aggressiva, che non ha consentito a una maggioranza che non è mai stata maggioranza, perché non ha mai avuto tutti quei voti, per cui 45 deputati erano stati eletti in quel 2012. E quindi una maggioranza un po' traballante, come sempre, un'opposizione che non ha svolto il proprio compito e non ci ha dato in questa ultima chiusura la possibilità di fare una finanziaria dignitosa. Diciamo che è stata una finanziaria tecnica e non si è mai vista una finanziaria tecnica a fine legislatura. Non c'è stata neanche la possibilità di fare l'assalto alla diligenza, cosiddetta. Ma assolutamente, ma non è un problema di assalto alla diligenza, non è questo il tema, perché questa legislatura è stata contraddistinta proprio da questo, dal fatto che non c'è stato in nessuna finanziaria un assalto alla diligenza, semmai c'è stata una finanziaria sempre rigorosa, stretta, perché non c'erano risorse purtroppo. E quindi oggi che si poteva fare qualcosa in più, purtroppo non è stato consentito, non è stato possibile e siamo a oggi. C'è il cosiddetto collegato alla finanziaria, che è una legge finanziaria omnibus, che purtroppo, a mio avviso, pur contenendo delle cose importanti per la Sicilia, per i comuni, per le imprese e quant'altro, purtroppo non vedrà la luce. Io mi auguro di sì, in questo scorcio di legislatura, mi auguro che si possa recuperare qualcosa, però, insomma, il tempo corre con una velocità incredibile e mi pare che non riusciremo a fare granché. Spero di sì, ma la speranza, come dire, è l'ultima a morire. Io credo che questa legislatura, una delle cose negative, io credo che su questo posso anche coinvolgere l'amico Angelo Villa, è stata sopprimere le province, ma solo sopprimerle. Ma, diciamo che c'è stata la propaganda che, diciamo, ha presso il sopravvento su questo tema, quando in voce poi le province non sono state soppresse in realtà, perché ancora ci sono i commissari in tutte le province, le città metropolitane che sono nate vedono soltanto il sindaco della città metropolitana, ma non si è potuto definire l'assetto. Parliamoci chiaro, troppe cose sono state fatte, non solo in fretta, ma anche con un atteggiamento propagandistico, senza invece vedere gli interessi delle comunità che si devono amministrare. Diciamo che questo governo ha deluso significativamente, perché appunto tutto il percorso, tutta questa legislatura è stata un'occasione mancata, per ultimo appunto la finanziaria di cui parlava l'onorevole Raya. E' chiaro che adesso bisogna fare di tutto perché le elezioni prossime possono determinare una condizione di rilancio invece di un'azione politica, di un governo che possa davvero amministrare e governare la Sicilia, avere un'idea di sviluppo e dare alle siciliane una speranza per il futuro. No, ma naturalmente noi siamo qui oggi per le elezioni amministrative, è vero che è stato un caso vederci con te e con la tua splendida televisione, quindi ti ringraziamo per questa intervista. Siamo qui per intanto sostenere il nostro candidato sindaco, Giovanni Ferro, perché riteniamo che Mirabella in Baccari possa davvero cambiare verso, avviare una svolta a determinare una condizione diversa per questa comunità che merita davvero molto di più rispetto a quello che in questi anni abbiamo visto con gli amministratori che stanno lasciando un disastro. Detto questo siamo qui naturalmente per sostenere Ferro, ma poi siamo qui anche per mandare un messaggio. C'è bisogno che questo comprensorio, che è un comprensorio abbastanza omogeneo, che ha alcune vocazioni che vanno assolutamente sostenute, se volete anche in qualche modo aiutate, quelle dell'agricoltura, del turismo, del turismo rurale, dell'artigianato, credo che questo comprensorio deve davvero, i cittadini di questo comprensorio, devono mettere in campo uno scatto d'orgoglio. Vale per Mirabella, peraltro l'orgoglio Mirabellese è una bellissima lista, il suo candidato è un ottimo candidato, Giovanni Ferro, ma credo che questo debba valere per tutto il comprensorio. In questo comprensorio c'è bisogno e si creano le condizioni perché i governi siano i più possibili omogeni. Ormai sempre di più i sistemi territoriali, se non sono omogenei, se non dialogano tra loro, le possibilità di sviluppo di questi territori non sono quelli che si dovrebbero avere. E allora io dico che noi dobbiamo fare di tutto perché in questi comuni in cui si vota, nel comprensorio calatino, e si vota in otto comuni, ci possa davvero essere finalmente una classe dirigente all'artezza, un governo delle comunità all'artezza, a Mirabella con Giovanni Ferro, nelle altre realtà con i tanti del centro-sinistra e delle comunità che alcune hanno fatto bene e vanno sostenute, San Michele di Ganseria piuttosto che Lico di Obea e così via di seguito, e altre invece c'è bisogno assolutamente che ci sia un scatto d'orgoglio anche in quelle realtà per creare questa condizione di omogenità che può consentire il dialogo fra queste comunità e quindi una possibilità di sviluppo di tutto il comprensorio che davvero merita molto molto di più. Ora lei, chiusura, due parole a sostegno della candidatura, stasera siete qua a Mirabella in Baccari per il vostro candidato Giovanni Ferro, anche lei. Giovanni Ferro è un imprenditore, una persona che ha fatto sempre bene nel suo lavoro, è un politico, è un ragazzo che assieme a tutta la squadra potrà far cambiare volto veramente a questa città. Mirabella ha bisogno di avere un'amministrazione, un governo della città diversa rispetto ai dieci anni in cui è stata governata. Diciamoci la verità, questo territorio è stato governato veramente male. I debiti che ci sono in questa comunità di meno di 5.000 anime sono veramente tanti e certamente sono stati debiti creati da questa amministrazione che sta lasciando macerie e che poi, ovviamente, noi siamo convinti di vincere questa tornata elettorale per una buona amministrazione, ma soprattutto per ridare il slancio a questa comunità. Lo diceva benissimo Angelo Villari quando parla di dare una mano a questa comunità in termini di sviluppo, in termini di progetto e che messa assieme alle altre realtà del nostro comprensorio credo che si possa parlare di uno sviluppo un po' più ampio in cui ci sono delle cose che si possono fare insieme servizi, infrastrutture e altre cose ancora che certamente tendono a fare sì che Mirabella e Imbaccari così come le altre realtà, abbiano quello slancio giusto per creare occupazione. Io sono meravigliata di una cosa nella nostra ASI di Caltagirone, che è quasi un disastro insistono in quello spazio imprese importantissime che commercializzano con il mondo e io sono meravigliata positivamente perché vuol dire che c'è una grande vivacità in questo territorio Mirabella e Imbaccari ha delle imprese eccellenti e quindi da questo deve ripartire Giovanni Ferro da questo deve ripartire la sua lista da questo deve ripartire il governo per questa città cioè dalle eccellenze e da qui si può creare quel buon governo che i cittadini aspettano veramente da tanti anni quindi dateci una mano, date una mano a Giovanni Ferro candidato sindaco per questa lista, per questa città date una mano ai tanti consiglieri comunali che sosterranno per i prossimi cinque anni Ferro e questo progetto importante Grazie all'onorevole Concetta Raia grazie ad Ancelo Villari c'è qualcosa che vuole raggiungere? No, se c'è Va bene così? Va benissimo Chiudiamo anche noi questa trasmissione vi ringrazio la cortesa attenzione ringraziamo i fratelli Russo che ci hanno dato l'ospitalità qui al Parco degli Olivi di Mirabella Imbaccari questa bellissima location chi non la conosce la venga a visitare per i propri appuntamenti importanti non resterà assolutamente deluso Grazie, buon proseguimento e buona serata Grazie a tutti